Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It Fermi tutti Questo è un gioco spettacolare Forse probabilmente uno dei più incredibili che io abbia provato L'ho provato giusto all'inizio, mi è piaciuto talmente tanto E ringrazio il buon demo J2007 che me l'ha consigliato Non lo conoscevo, era completamente passato in sordina E quindi lo proviamo È una sorta di ritorno al futuro Però tutto completamente, leggermente modificato per ovvi motivi Ma è veramente incredibile Ho contrattato lo sviluppatore, era entusiasta dell'idea di far vedere il loro gioco anche in Italia Con il mio modo, diciamo, di presentare Un po' come dice anche Ocean Caster L'amico seduto sul divano insieme a un altro amico e gli mostra il gioco nuovo Noi qui viaggeremo, mi pare dall'anno 0 fino all'anno 2030 Al momento il gioco è diviso in diversi atti È in early access, quindi è in sviluppo Stiamo usando l'ultima patch del 6 aprile È una figata perché viaggeremo, c'è tutta una storia da seguire in inglese Ma veramente fermi, seguitelo perché è veramente figo Addirittura ho scoperto che se voi andate in un anno, in una data, in un'ora precisa E poi ci tornate, vedrete voi stessi e dovete fare molta attenzione a non incontrare voi stessi Per non creare il famigerato paradosso temporale Guideremo questa che definiremo la DeLorean Leggermente modificata, dovremo stare attenti a non saltare in aria Facendo su riscaldare il reattore Ma voglio iniziare da capo Voglio iniziare da capo perché vi voglio mostrare la storia dall'inizio E cercheremo di capirci qualcosa Perché la storia ovviamente non è quella di Ritorno al Futuro Ma è completamente diversa con questo scienziato che realizza la propria macchina del tempo Insomma che è questa Per conto di qualcuno ma poi insomma ci sono dei problemi e così via Lo proviamo, lo proviamo subito Vedete in alto a destra i soldi Abbiamo la vita perché appunto dovremo anche combattere E abbiamo anche la possibilità di mangiare Insomma c'è quella mela un po' così stile anni 80 Crouch and jump light salta E crouch E premi il tasto E per raccogliere Quindi raccogliamo la barra di uranio Poi vedete che con la rotella del mouse la possiamo allontanare E la andiamo ad inserire nel motore dell'auto Qui è doppiato? Poi in realtà no Con il tasto TAB apriamo questo tutorial Insomma che ci dà una data Il 18 di febbraio dell'84 a mezzanotte Va bene Insomma che cosa si può fare dopo? Col tasto F si aprono le varie cose Potete vedere che possiamo aprire anche il baule Dove ci sono entro dei dollari Delle cose aggiuntive Possiamo addirittura Leggere le note Prendere lo snack Quindi F mangiarlo Oppure I inserirla nell'inventario Che vedete in alto a sinistra Possiamo leggere le note Prendendola e leggendola Passo 1 Inserisci l'uranio nella camera di reazione Entra in macchina La seconda nota invece cosa dice? Trova una fonte avanzata di energia per il reattore Le stime dovrebbero dirti intorno al 2014 O un pochino dopo Va bene Intanto possiamo salire in auto Col tasto F saliamo L'auto si chiude Doviamo guardare il reactor temperature In Fahrenheit Praticamente si raggiunge non so quanti gradi Adesso poi lo dice Ma purtroppo non riesco a sentire bene l'audio Avendo le doppie cuffie Qua in alto si può salvare Qua si possono accendere le varie luci Vedete che si accendono le luci interne Possiamo attivare il reattore Qua si può andare al cooling Che è quel fumo diciamo che esce per raffreddare il reattore Qua abbiamo il set destination Che non possiamo ancora usare Al momento dobbiamo guidare No, questo è un tutorial Poi quando si inizia a giocare diventa figo Io adesso questo gioco ve lo butto lì Vi faccio vedere un pochino quello che è E poi ci spariamo una live Se il gioco vi piace Indubbiamente Quindi Qua siamo nella sala del laboratorio Che sogno orribile Si schianta addosso a un muro Insomma Sì, va bene Il modo di parlare ricorda molto Uno, quello di Animal Crossing Ma neanche troppo Due, quello di Landlord Super Ok, questo è il professore Il dottore Doc Finalmente Stavi dormendo sul pavimento ancora È un po' come Hai ancora dormito vestito Insomma È pieno di citazioni sto gioco O almeno io ce le vedo Hai fatto dei progressi da ora Edward, ma Dimmi che hai finito l'arriettore L'ho fatto, ma Fantastico Vieni C'è poco tempo Il nostro supervisore Lo vedrà presto Abbiamo bisogno che la macchina sia pronta La macchina La macchina è il tempo Dai, su Non abbiamo tempo Ma Prendi l'arriettore Seguimi all'ascensore Ok Qua assisteremo a un'altra citazione Intanto prendiamo Il arriettore di fissione Qua vediamo Che è Mr. Infini Coffee In realtà Mr. Coffee Dovrebbe essere la macchinetta Che è stata usata Per fare l'arriettore Che si vede Nel Ritorno al Futuro 2 Quando Doc inserisce I rifiuti In quella sorta di Cilindro di plastica Sulla retro della DeLorean Prima il tasto Activate lift Ok E andiamo Questo è un gioco Veramente spettacolare Non fatevi ingratare Perché controlleremo Proprio la macchina È uno spettacolo Eccola qua Ci sono anche tutti i progetti disegnati C'è una cura Un amore Nello sviluppo di questo gioco Che è veramente Eccezionale Va bene Che devo fare Lo so già cosa devo fare Ma voglio parlargli Talk Si vede orgoglioso Insomma Aspetta un minuto Edouard Questo è un Mac 3 È modificato Per raggiungere La velocità Di 90 miglia All'ora Sembra fantastico Ho sentito Che la CC Corp C Corp Sta lavorando A un Auto Alimentata A nucleare Dobbiamo batterli Che cosa dobbiamo fare ora Assembliamo l'estero della macchina Prima Spero che il tuo reattore funzioni Apri la bottola del reattore Insomma Inserisci il reattore nella macchina Perfetto Qua ci ho messo un po' a capirlo Ma in realtà scoprirete Che potete aprire Questo Inserirci Il reattore Che poi in realtà Non funziona la rotella Quindi devo inserirlo Ok Così Chiudiamola Good job E ora è il mio turno Deve inserire Il time core È questo che permette Il viaggio nel tempo Quindi quando non c'è il flusso Converte la frequenza del tempo Nella data Attuale data Insomma La sta installando Allora Può computare solo la data Tra il 4000 Before Christ E il 2030 Ma io credo che Attualmente può solo andare Dall'1 A Avanti Cristo E dopo Questo per far capire Che in early access Il gioco verrà portato avanti Ora Il piano attuale Si Sento orgoglioso Eh Quindi qual è il piano Faremo Una Una corsa di test Ti ricordi l'ultima volta Mi ricordo Mi ricordo Ma prometto che Questa volta Andrà tutto bene Anche se tu Ti dovessi schiantare Ancora Addosso Ho avuto Gli incubi Perché lui si è già Schiantato una volta O io O il resto dell'isola L'acceleratore Può Essere distrutto In un Impatto Ma non preoccuparti Ho fatto L'auto Veramente Molto resistente Quindi Non corri Il rischio Di un'esplosione Nucleare Prima Prendi Il tuo Personal computer PLC È sul tavolo Intanto possiamo Eccolo lì Possiamo dare un'occhiata Anche a questo Che è stato proprio Disegnato Con tutte le Il time core Che ha installato Lì dietro L'ha installato lì L'ha collegato Vedete che ci sono I circuiti di davanti La velocità Sembra giusto C'è LOL C'è Veramente Non ho parole Questo è il computer Che possiamo Aprire con il nostro Notepad Con il tasto Tab Vediamo sempre Quella data lì Va bene Parliamoci ancora Andiamo a testare Ho fatto Tutto il lavoro Va bene Ti dirà Quando avverrà Un tempo di reset Cos'è il tempo di reset Ti ricordi la nostra Piccola teoria Questo evento Succede quando Il tempo avviene In una certa soglia Devo Devo leggermelo bene Cancellando il passato In pratica Dovrebbe essere La teoria Dell'imbuto In pratica Quando cambi qualcosa Del passato Non c'è più nel presente Insomma Se tu lasci qualcosa Nel passato Svanirà E questo per giustificare Probabilmente le cose Che non restano lì Grandi cambiamenti Probabilmente Rimarranno Ma Si modificheranno Nella realtà Del presente Hai una missione Da compiere Hai bisogno Di sistemare La frammentazione Del tempo Per me Che cosa vuoi dire Durante i test Della macchina Del tempo Ho fatto Alcune cose Nello Continuo Spazio Tempo Ho mandato Delle scatole Con degli item All'interno Ma sono tornato Indietro Vuote Con strane lettere Dentro di esse Sembra confuso Tieni in mente Di non Allentare Diciamo La vista Sulle Tue scatole Mentre viaggi Sarò onesto Sono abbastanza Confuso Piuttosto Confuso Su queste lettere Ricordati Che tutto Quello Di cui Ti ho bisogno È Sigillare Queste Queste Cose Va bene Cioè Praticamente Lui ha fatto Casino Con lo spazio Tempo Insomma Ha modificato Qualcosa Nei suoi test Ok Vai Sulla rampa E Quando ti darò Il segnale Aperò Il cancello E Vai Assicurati Di rimuovere Il chip Che blocca L'inserimento Perché Perché In pratica Scusami Ma Chiudo la porta Qui Perché Allora Praticamente Saliamo in macchina Praticamente Qua potete Inserire Tirando la leva Qui Accendere Cioè Esattamente Come nel film Solo che Forse Alla Live Era Qui Comunque Va bene Potete Inserire Vedete 02 18 Del Avremmo detto 1984 A mezzanotte E 00 Invio E non me lo fa Confermare Perché ovviamente Dobbiamo togliere Questo Però Intanto Non ce ne curiamo Col tasto V Potete muovere La visuale Intanto ci muoviamo Dall'interno Scendiamo E Iniziamo Da qui Metto indietro La visuale In modo da vedere Bene Dove dobbiamo Partire E Attivo Il condizionatore Si 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 Attivo Attivo Quello lì Si Accendiamo anche Le luci No Le spegniamo Qua si può salvare Come ho già detto La carica Get ready Ma più che altro Mi domando una cosa Ma Abbiamo messo E infatti Hai bisogno Di uranio Si è dimenticato Anche qua Un'altra citazione Dovesti trovarne Nel compartimento Dietro Ok Le raccolgo Uno Vado a inserirlo Ok Adesso Dovreste Vedere Che qua Il core Attivo E carico Eh no Non mi lascia Modificare Vabbè Andiamo Ah Vuole fare un test Vuole tipo Andare un'ora Nel futuro Ok Mi sta facendo andare Sempre oggi Ma Attantata Ok Oddio Abbiamo delle persone Molto minacciose Vedete che hanno anche Dei cuori Sulla Sulla testa Che ci stanno sparando Tra l'altro No ma li sto investendo Vediamo un attimo Che astorditi Ah Veloce Guida all'interno Della stanza segreta Ok Andiamo Ho preso anche dei soldi Perché li ho battuti Anch'io Vabbè Questi qua Sono Dei Dei Cattivoni I guardiani Del tempo Una roba del genere Vabbè Questa è una zona segreta Abbiamo Aggiornato Il nostro Il nostro Elenco di missioni Ma in realtà Non vedo nulla Ok Ok Parliamo a Edward Allora Sei saltato Di un'ora E sei qui Incredibile Va tutto bene? Ti senti strano? Non preoccuparti Di questi tizi Di prima Tutto sarà Spiegato In un secondo momento Ma possiedi un fucile Perché li ha sparato Che cos'è questo posto? Sì Una mia invenzione personale Una pistola stordente Per essere precisi Il primo prototipo Che funziona Questo posto Ah Dovrei aver Te l'ho detto prima È il mio Rifugio segreto L'ho installato Una porta segreta Che potrebbe essere utile In futuro È illegale Questo posto? Io Io non lo so Comunque Che cosa succede qui? Vuoi la versione Corta O la versione lunga? Voglio solo sapere Che cosa succede Agenti Sono entrati Nella fabbrica Insomma In questo rifugio In questo laboratorio E stanno Raidando Tutte le nostre ricerche Dobbiamo portare La macchina fuori Di qui Agenti Si Ok Praticamente Sembrano essere Della C-Corp Ma loro Non hanno detto nulla Stanno cercando Di rubarci L'invenzione Questa Stanza Conduce Al tunnel Di drenaggio Della facility Vai E raggiungi Pine Island Altra citazione Anche questa Qualcuno ha bisogno Di distrarre Lo farò per te Questo è solo uno Dei molti rifugi Che ho Qualcuno Va bene Va bene Dai 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 Andiamo La cosa che vorrei fare E saltare A vedere il giorno Del mio compleanno Quando sono nato Però Direi di non farlo Allora Magari lo facciamo in live Ok Hai bisogno di muoverti Scusami Ma Magari Mi Mi piglio Un altro Di questi No Che dici Eh scusa Ho bisogno Di un uranio Pieno Posso questo Metterlo via Che magari Riesco a riempirlo In qualche modo Lo metto Nella 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 macchina Dai Arrivedo AC Ok Adesso Dobbiamo fare una cosa Lo faccio Prima che Mi uccidano Perché è anche possibile Che mi sparino E mi facciano del male Eccoli Eccoli lì Infatti Devo premere Il pulsante Per aprire la porta Vedete che loro Sparano E mi tolgono vita Quindi io adesso Risalgo in macchina E andiamo Arrivederci Vedete il calore Devo Mannaggia C'è veramente caldo Voglio accendere Ok Il refrigerante Perché Si sta Sorriscaldando Il motore E non vorrei mai Che Ahia Ok E usciamo A Pine Ok E questa È La quest Completata In questo gioco In early access Significa che I contenuti Seguenti E la storia Potrebbero Non essere Finiti Potrebbero Essere Soggetti A cambiamenti In futuro Sì Nel 1984 Tuoi inventori Hanno lavorato A un'unità Di spazio-tempo Una macchina Capace Di spostare L'occupante In ogni data Nel tempo Lavorando Su questo progetto Hanno finito Il loro test Un gruppo Di sinistri In Invasori Hanno Pianificato Di rubare Una macchina Vabbè Questo È Semplice Ok Sono Nel pieno Dell'assalto I due inventori Hanno organizzato La fuga Questo è quello Che è seguito Perfetto Allora C'era questa indicazione Sull'atto 1 Poi c'è l'atto 2 Non so se è uscito Già l'atto 3 15 aprile Dell'84 Potrei andare a vedere Dove sono nato io Ma in realtà Lui mi dice Dovresti andare in una data Del 2000 Del 2014 O successivo E recuperare La cosa Lo spettacolo È che Guardando anche Sulla pagina Steam Vedete anche voi Nel medioevo Questa starting line Cioè per tenere Questa è la città E viaggiate Adesso io voglio fare un esperimento Vediamo se riesco a salvare la partita Save Confirm Enter name Indy Adesso Giusto che siamo Un po' così Al cazzeggio No? Ok Close Confirm Close Close Ho salvato No? Adesso io Allora Fammi risalvare Indy Confirm Close Ok Allora Adesso Ah devo togliere questo Il time modifier Pick up Lo metto in inventario Così riusciamo a pianificare Facciamo una prova No? Ve la butto lì Giusto per farvi vedere Inserisci il tempo Andiamo A febbraio Giorno 18 Dell'anno Facciamo pieno Medioevo 1217 Alle ore 09 00 9 di mattina Confermo Perfetto Accendiamo Via Vediamo cosa succede Nell'ie di revo Porca caccia La miseria Non c'è più niente Siamo nel Medioevo E poi si può anche volare Pensate Pensate Adesso facciamo un altro esperimento Giusto per finire questa cosa E poi Farvi gasare un po' Il gioco costa forse Mi pare 8 euro Quindi Mamma mia Allora Facciamo Oggi è il Lo sto registrando Il mese di Aprile 07 Del 2021 Alle ore 9 00 Ok Confermo Perfetto Fatemi scendere Ah scusate Devo Raffreddare Giustamente Il reattore Caldissimo Perché siamo Saltiamo in aria Io la prima volta Non ho raffreddato Il reattore Eh vedete Che lo butto fuori Da lì Perfetto Allora Fatemi prendere Un'altra carica Uranio Dell'84 Mamma mia Che sfida Col tasto sinistro Colpite Allora Fatemi prendere Devo trovare Dei libici Che mi vendano Il materiale Allora Mamma mia Ragazzi Che gioco È qualcosa Di assolutamente Incredibile Ma anche solo L'idea Non è originale L'idea Ma Portarla in gioco Cavoli Allora qua c'è un po' di spazio Vediamo se ce la facciamo E andiamo nel 2021 Quindi Andiamo comunque Nel futuro Rispetto a dove siamo ora Confermo la data Allora Zero Due No 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 Non voglio andare a febbraio Dell'anno zero No E infatti vedete che No Fammi sortare la data Allora Zero Quattro Zero Sette Duemila Vintuno Alle ore Zero Nove E zero Zero Confermo Speriamo di avere abbastanza Perché poi si può anche volare Come vi dicevo Non c'è bisogno di strade Si riesce però ad accelerare piuttosto rapidamente Quindi dovremmo farcela E già che se accendo l'arriattore Magari sarebbe meglio Spengo questo Accendo l'arriattore L'arriattore è pronto La carica è on Però abbiamo già una buona temperatura Non so perché Andiamo Ok vai 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 2021 Boiamondo che botta L'unica pecca che diceva qualcuno Era che le persone erano bene o male Vestite un po' tutte uguali In ogni periodo storico diciamo avvicinato Cioè questi mi hanno visto comparire dal nulla Qua mi spegne Il flusso canalizzatore Perfetto Scusate Cioè siamo arrivati nel 2021 Ci può stare Cittadina piccolina Salve Benz Donuts Sì ma Cioè avete visto È un 2021 assolutamente utopistico Dove c'è la gente che vola Cioè è stato creato anche questa Questa cosa Che si vedeva comunque negli anni 80 Con Col futuro Guardate Ma Siamo proprio finiti in un posto sfigatissimo Qui perché Vendono ciambelle Non c'è nient'altro Però qua il nostro compito adesso è quello di cercare delle ciambelle No in realtà In realtà adesso ricaricherò la partita Però dobbiamo La missione attiva è quella di andare nel 1984 No dove c'è Maps and site Ah ok C'è lo store Ci sono altri posti Beh è una mappa anche abbastanza grossa Sandy Cave Fort Dunn Ok Dollari 7 Attive Live No Eh niente Allora ragazzi Non caricherò Non salverò la partita qui Perché voglio tornare Nella Nella vecchia Sono andati a vedere la macchina Vi piace? C'è abbastanza inquieto Eh Ho solo Uno di uranio Quindi non ho Non ho la minima idea di dove andare Non so nemmeno come volare Perché Col tasto shift Dovrebbe poter volare Ma l'auto non può volare Adesso vi faccio vedere Le opzioni Bind control Ehm Vediamo un po' Trust No Reactor Over Q Q Ok Ok Poi c'è il player General Q Eh no Non vola Non vola Non vola Non vola Vabbè Comunque È tutto Estremamente figo Fammi raffreddare il reattore Perché C'è bisogno E qua si può vagare Nel Passato Nel futuro Siamo andati nel Nel medioevo E qui non c'è assolutamente nulla Siamo andati nel 2020 2021 Ed è Successo quello Welcome to Pine Lake Che Che citazione Questa è la città The Power of Love Eh sì Burger Lord Mamma mia Che spettacolo Ci sarà anche la benzina Eh sì Mi sa di sì Perché vedo un 91 lì O è il danno Vabbè fammi guidare ancora un po' Vediamo Ma io credo che possa essere La benzina Fusion Fuel Aha Sì Siamo nel 2021 Assolutamente Utopistico Quindi secondo me Qua possiamo riempire L'uranio Mettendolo qui Eh sì Secondo me La cella di fusione Droppa Sì Mi sa di sì Però non abbiamo soldi Sì Secondo me sì Ah sì Dai Mettila Mettila Quello Mi chiedo Se ci sia anche Un carburante O qualcosa Dove fare Benzina Ragazzi Non riesco più a smettere Ci facciamo una live Una sera Su questo E Sarà uno spettacolo Perché lo vedremo Da veri appassionati Ragazzi Questo era No time E c'è anche qualcosa In giro Di assolutamente Di Stranissimo Tipo questo E' un cocco crab Posso prenderlo a pugni E mi ha lottato Della Fuori di testa Totalmente Fuori di testa E qui General Atomics Can drink Soda E' un generatore atomico Ah no Di cose da scoprire Recycle station Possiamo riciclare Le cose qua Vabbè Dai ragazzi Vi ho creato Abbastanza hype Fatemi sapere ovviamente I commenti qua sotto Se Vi interessa Vedere una live Di questo gioco Stai bussando la porta Solo per divertirti Va bene ragazzi Vanno tutti a fast food Qua nel 2021 Va bene Ragazzi Spettacolo Spettacolo davvero Mi ho fatto un video Lunghissimo Ma spettacolo Per la precisione Il gioco costa 8 euro 99 Ed è in early access E ci resterà Fino a Un qualche tempo Del 2021 Quindi Il gioco Non aumenterà di prezzo A quanto ho capito Ed è sviluppato Dai Lost in Days Studio Fatemi sapere Cosa ne pensate Ringrazio ancora Spero di pronunciarlo Giusto DemoJ 2007 Per avermi consigliato Questa autentica perla Alla prossima ragazzi E ciao ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima